Beautiful Trame al, 4, 02, Jack è il padre di Finn, Brooke si infuria con Hope. Incredibili novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Brooke e Hope avranno uno scontro a causa di Thea con Sharp. Jack, invece, svelerà la verità sulla paternità di Finn. Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse dal 30 gennaio al 4 febbraio in prima visione TV rivelano che Brooke si infurierà con sua figlia quando minaccerà di trasferirsi a casa di suo padre se non verrà accettato in famiglia. Logan, a questo punto, cercherà di tirare in ballo Liam, ottenendo l'opposizione di Hope. Proprio quest'ultima racconterà tutto a suo marito, che non saprà più da che parte stare. Nel frattempo, Rich chiederà a Justin di compiere alcune indagini su Thea con e Shayla. In seguito, Brooke racconterà allo stilista Estefi che Hope ha preso una decisione a riguardo suo padre. Infine Liam apparirà stupito quando sua moglie gli farà intendere che si trasferiranno qualora le venisse vietata una frequentazione con Thea con. Nelle anticipazioni delle puntate al 4 febbraio di Beautiful, Shayla incontrerà Jack ad il giardino. In questa circostanza, l'uomo la pregherà di mantenere riservo sulla vera paternità di Finn. Intanto, Rich cercherà di stare vicino a Brooke e le ricorderà del suo passato doloroso con Thea con. Per questo motivo, lo stilista la convincerà ad avere fiducia nelle nozze tra Hope e Liam. Jack avrà un attacco di panico quando vedrà Finn arrivare ad il giardino. Shayla. A questo punto, pretenderà l'iniziativa, incoraggiando l'ex amante a rivelare a suo figlio che è il suo padre biologico. La criminale apparirà convinta che il bel dottorino e li dovrebbero sapere tutta la verità. Nel contempo, Hope, Thomas, Paris e Chende si prepareranno per l'imminente sfilata di moda. A tal proposito, la più piccola delle Logan annuncerà di aver pregato la sorella di Zoe di collegare l'introduzione dell'evento alla fondazione e presto. A tal proposito, Buckingham scatenerà la gelosia tra Thomas e Chende quando farà i complimenti ad un disegno. Gli apparirà stupita quando Jack le racconterà di sapere chi è il padre biologico di Finn. Stupore che aumenterà ancora di più quando le dirà di averlo saputo fin dalla sua nascita. La donna, a questo punto, dimostrerà di avere il cuore spezzato quando apprenderà che suo marito le ha mentito per tutti questi anni. Paris si sentirà a disagio quando Thomas la inviterà a cena. Fortunatamente l'incontro sarà interrotto da Carter.